Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema paradiso con mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero semolato, panna fresca per dolci messa in freezer per 45 minuti, mascarpone e miele. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale. Mettere da parte un cucchiaio di zucchero a velo. Posizionare la farfalla sulle lame. Versare la panna. Chiudere con il coperchio senza il misurino e montare senza tempo a velocità 3,5. La panna è ben montata. Trasferire in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale e senza la farfalla mettere il mascarpone, lo zucchero ed il miele ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 2. Il composto è pronto. Trasferiamolo nella ciotola con la panna. Amalgamare bene. La crema è pronta per essere utilizzata. Crema al paradiso con mascarpone, ideale per farcire torte, crostate e pandoro oppure da utilizzare come dolce al cucchiaio. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!